Benvenuti a Cronaca di Pellegati, il nuovo format di Radio Rosso Nera. Innanzitutto devo chiedere a Carlo se ti piace questo nuovo format e ti piace questo nome. Io sono sempre stato un cronista, mi piace essere sul marciapiede a seguire le notizie, ad avere le notizie. Poi Cronaca di, viene subito in mente Cronaca di Narnia. Cronaca di Narnia è un libro fantasy, autore C.S. Lewis, che è uno dei più grandi romanzieri di fantasy. Quindi la fantasia, i soprannomi, quindi Cronaca di Narnia, no, Cronaca di Pellegati, mi piace molto, rievocando appunto le cronache di fantasia, ma che poi sono invece, non è fantasia, ma sono cose concrete, perché parliamo di volta in volta di una partita del Milan, la raccontiamo in una certa maniera. Io mi sono portato le Bibbie, cioè l'almanacco del Milan e Forza Milan. Vi diremo anche i commenti dopo la partita, insomma ritorniamo a vivere queste emozioni di pochi o di tanti anni fa. Esatto Carlo, infatti questo format nasce anche per raccontare quella che è stata la storia del Milan, tramite cronache, aneddoti, tante emozioni, soprattutto emozioni rossonere. Ma Carlo, partiamo subito con il primo incontro, anzi i primi incontri di questo nuovo format, ovvero Dortmund. Abbiamo deciso di partire da questa partita, da questo match, perché è una partita delicata per quello che riguarda il girone. Il Milan deve portare a casa i suoi 9-10 punti, avendo pareggiata prima col Newcastle, e poi bisogna allora incominciare a raccogliere. E allora siamo partiti da Dortmund. La prima trasferta di quest'anno. La prima trasferta di Dortmund, voglio subito dirti una cosa. Il Milan, rievocheremo la partita del 2002, e quella qualche mese dopo, sempre del 2002, una in Coppa UEFA ed è andata malissimo, e una in Coppa Champions League che è andata molto meglio. Perché in Coppa UEFA non dobbiamo dimenticare che c'era l'eliminazione diretta. Mentre nella stagione 2002-2003 il Milan era nel girone. Ma voglio dirti una cosa, io te la dico, poi prendila tu come vuoi. Milan ha giocato in Champions League due volte. La seconda ha vinto 1-0 e poi ha vinto a Manchester perché era la stagione 2002-2003. Ma io ho qui il mio bello al manacone del Milan. ha giocato anche nel 57, scusate, il 12 febbraio del 58 e il 26 marzo del 58. Andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League. È arrivato in finale. Quindi il Dortmund vuoi dire che ci porta sogni. Ci porta sogni. Perché così dice la storia, non lo diciamo noi in Champions League. È bello andare a ricordare gli autori dei gol, perché per quelli non giovanissimi, a me dicono tanto, però è ora che, cioè quando avete studiato a scuola, non avevate vissuto quando c'è stato l'incontro, non c'eravate all'incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele. Però non è detto, non ci sono, non mi interessa. No, dobbiamo approfondire. E allora Borussia Dortmund-Milan 1-1, 44, Carletto Galli, un giocatore fortissimo di testa, eccezionale Carletto Galli, e autorete di Bergamaschi, finita 1-1. E questa però a Dortmund. Il ritorno, un bel 4-1, ha segnato. Tito Cucchiaroni, un giocatore pelato, velocissimo, un grandissimo giocatore, che poi è stato uno dei grandi eroi di Genova. Quando voi andate alla Sampdoria, ci sono ancora gli striscioni e i club Tito Cucchiaroni. Poi Lidl, scusami. All'U del Dormun, Pressler, ma poi Carletto Galli e Grillo, in argentino grigio, perché le duelle, segna il gol del 4-1. E quindi questa qui è andata bene. E poi invece passiamo con un salto nel marzo del 2002. Eh sì, Carlo, devo dire che passiamo da partite con tanti gol a vittorie di misura, del Milan, quando si parla di Dortmund. 0-1, 4-0, tanti gol. Sì, là volevamo un po' dimenticarla. Anche perché, se voi andate a vedere la data di questa partita, cioè il 4 aprile, prima del 4 aprile, il Milan aveva vinto il 17 marzo col Torino 2-1, aveva vinto a Piacenza 1-0, aveva vinto col Parma 3-1, e aveva pareggiato a Verona con il Chievo dopo. Quindi, prima di questa partita, sembrava un Milan sano. Milan-Torino, Milan a Piacenza e col Parma, la vittoria del Milan. Poi, improvvisamente, è la catastrofe. Perché il Milan, vado a prendere un'altra Bibbia, il Forza Milan, e c'era Amoroso, che poi ha giocato un po' nel Milan dopo, ve lo ricordate? Per qualche mese, non tantissimo. Esatto. Ecco, Amoroso, che era stato uno degli eroi dell'Udinese di Zaccheroni, che aveva davanti Poggi, Amoroso e Birov. Poi Birov è venuto da noi. Un disastro. Un disastro perché il Milan prende gol su rigore all'ottavo minuto. Subito. Subito. Poi altri, e poi ancora Amoroso, nella fine del primo tempo, al 34, al 39, e al 39 Abbiati non è stato straordinario. E poi segna ancora il Borussia Dortmund nel finale, no, a metà del secondo tempo. Un 4-0 che nessuno si aspettava. Infatti, ti vado a leggere i commenti di Ancelotti e di Maldini. Ancelotti dice Sono sorpreso dalla prestazione negativa. Disattenti dietro e spreconi davanti. Abbiamo concesso troppo sulle fasce laterali e non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni che si sono presentate in attacco. E lì, in questi casi, si presenta anche Maldini, capitano. Certo. I club italiani sono in crisi, dobbiamo cercare di capire perché. Incontriamo squadre che pensano ad attaccare e sono meno preoccupate di noi. Quindi fa un discorso anche filosofico. Noi italiani dovremmo essere bravi nel difenderci. Invece, quando incontriamo squadre che praticano un calcio offensivo, andiamo in forte difficoltà. E anche i commenti dei giornali. la Gazzetta dello Sport parla di gioco al massacro. Dice non è stata una partita. e i Corriere dello Sport non hanno mai lottato a darmi pari. Del resto, Carlo, quando a fine primo tempo sei già sotto 3-0, ci stanno le terribie. Sei vista anche poco reazione, perché quando vai a vedere, non c'è stata reazione. Voglio ricordare la formazione del Milan. Abbiati, perché in questo periodo, era il 2002, il Milan cercava di lottare su due fronti, perché era arrivato da qualche mese Ancelotti, e voleva arrivare a tutti i costi al quarto posto in Champions League. Infatti il Milan, prima di questa partita, quando batte il Parma, è lì che lotta, pensa a un punto dal Bologna in lotta, mentre Inter-Roma-Juventus sono nettamente la davanti. Carlo, ti dico io questa cosa, perché sono andata a cercarla, infatti mi ricordavo così, che il Milan riesce a qualificarsi al quarto posto il 5 maggio. Il famoso 5 maggio. Però la partita decisiva, forse, è stata quando il Milan batte il Verona 2-1, con Inzaghi e il gol di Pirlo, con Serginho e il gol di Pirlo, perché è stato un Milan che lì era in difficoltà, perdeva 1-0 ed è riuscito a ribaltare. Pirlo che tra l'altro quell'anno ancora giocava in tre quarti, e l'anno dopo sarebbe diventato quello che... L'hanno chiamato il talentino Pirlo, che viene sostituito a un certo punto addirittura. No, non viene sostituito, ma insomma non aveva giocato una grande partita. Il Milan gioca con Abbiati, Contra, in quella sera un disastro, Laursen, in quella sera un disastro, Maldini-Calazze, Gattuso, poi viene Rui Costa, Albertini, poi viene Serginho, Ambrosini-Pirlo, Rosemari e Inzaghi. E qui questa è la formazione, ma nel secondo tempo c'è un'occasione per Serginho, ma c'è poco altro, una serata totalmente... Infatti volevo chiederti come si torna da una trasferta così, cioè si torna a casa con il viaggio di ritorno, con che animo si torna? Ma guarda, è stata proprio una partita quando proprio vedi errori individuali ed errori anche collettivi. Infatti era rimasto, il Milan era riduce da tre partite e nessuno se lo aspettava. Ma apriamo una piccola parentesi che non c'entra con la trasferta di Dortmund, però dopo tu speri di... speri nell'impresa. Sì, impresona in questa cosa. Impresona, ma c'è l'illusione, perché il Milan entro i primi 18 minuti realizza due gol, quello di Inzaghi e quello di Contra. E allora lì... Quindi ci pensi, ci credi. E incomincia a crederci, perché io in questi casi nelle telecroneche dico sempre facciamoci una scaletta, un gol entro i primi 15 minuti, un gol entro il 30 e un gol entro il 45 e poi il quarto nella ripresa. Entro il 15 è venuto il gol di Inzaghi, entro il 18 è arrivato il gol di Contra. A questo punto... Dolce la bocca! Poi però il Milan si è un po' fermato lì, il Borussia ben... E poi è arrivata la doccia gelatissima al... No, è arrivato poi... Ecco, mi ricordavo. È arrivato addirittura il 3 a 0, ma al minuto 92. Troppo tardi. Abbiamo goduto per un attimo la grande impresa al 94. Einrich segna il gol del 3 a 1. Un'illusione. Un'illusione. Ma abbiamo la possibilità di far risentire i gol dell'illusione. La tua illusione, il tuo sognare, il tuo crederci. Sentiamo allora i gol di questo Milan-Borussia. E viene avanti ancora... Ceva, manca di passione, faccia di sinistra. Serginio che punta, va sul fondo Sergio, attenzione, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, e il gol! Gol di Pippo! Gol di Pippo 1 a 0! Gol di Pippo 1 a 0! Gol di Pippo 1 a 0! Al decimo! Al decimo gol di Pippo! Gol di Pippo 1 a 0! Gol di Pippo 1 a 0 al decimo! La scaletta, il palinsesto Luca! La scaletta, il palinsesto! Diciottesimo minuto di gioco, è Pirlo messo, pronto a battere il calcio di punizione, c'è anche Sheva. Vediamo Pirlo pronto a mettere, c'è un giocatore sulla linea, attenzione, però c'è un giocatore che fa il furbetto là, attenzione, vieni avanti perché sennò è in fuorigioco un giocatore del Milan, vieni avanti Calazzo, perché c'è un giocatore del Borussia che è là, ecco, gli ha detto, devi stare dentro o stai fuori. Eccolo là, fenomeno. Pirlo, la punizione, la parata del portiere, il tiro! Gol! Due, 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 due! Contra, 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 contra due, contra, contra non uno fino al quarto. La scaletta, Luca, viene rispettata alla scaletta. 12 minuti di anticipo, 18 minuti, contra la storia, contra la storia, contra la storia. 2-0 per i ragazzi, punizione respinta da Le Manone, ha ripreso contra, ha tirato il gol del 2-0. La storia, signori, 2-0 per i ragazzi. Abbiamo sentito i gol e dobbiamo adesso spostarci qualche mese dopo. e siamo in Champions League. Sì. Allora io cambio il mio Forza Milan e mi trasferisco all'anno dopo. Perché Forza Milan, cosa succedeva? Le partite di dicembre le metteva sul Forza Milan di gennaio. E allora andiamo al meraviglioso 2003. Un anno che... Un anno magico. Sappiamo. Perché il caro Milan nel girone era stato formidabile, perché in questa partita, 100 giorni prima della fine del girone, avrebbe dovuto giocare con il Lokomovti in Mosca e Real Madrid a da primavera in questi gironi, era già qualificato. Perché il Milan aveva battuto, ed è stato un cammino, un cammino diciamo prepotente, batte il Real Madrid 1-0 con una grande gol di Svicenco su passaggio di Ruicosta, se lo ricordo. Benissimo quel gol. Poi è così bravo di battere appunto il Dortmund, poi avrebbe battuto Lokomovti in Mosca, ancora Lokomovti in Mosca, e le ultime due partite non contavano più. Ma praticamente con queste due vittorie si aveva già ipotecato. Tra l'altro, Carlo, due gironi, perché quell'anno c'era questa versione diversa, della Champions League con due gironi difficilissimi. Certo, Real Madrid, Borussia Dortmund e Lokomovti in Mosca, che è una squadra, direi, importante. Quindi, con questa vittoria, 100 giorni prima il Milan ipoteca il passaggio del turno. Perché 100 giorni? Perché poi si è giocato l'11 dicembre e poi si è giocato il 19 febbraio, praticamente tre mesi dopo Circe. E dopo veniamo a parlare di questo Borussia Dortmund-Milan. Ma, innanzitutto, tu sai dove è Dortmund? Direi di sì. No, però ti dico, è Rhineland Westphalen, quindi è, direi, centro Germania. Per arrivare a Dortmund, per i nostri amici che andranno, bisogna prendere il San Gottardo. Infatti, credo che da casa vogliono sapere anche come si arriva. Io ho lavorato tanto a Dusseldorf, che è attaccato a Dortmund, quindi si prende San Gottardo e in tre ore, tre ore e mezza, sei a Basilea. Attenzione! Ogni 12 secondi, o ogni 12 metri, c'è un autovelox. Ah, questa è una buona informazione. Quindi, se avete gli apparecchi per controllare l'autovelo, bene. Altrimenti, il piede deve venire il crampo, perché deve stare, no, sono terribili. Sì, anche perché due e tre, ne prendi due e tre e già... Sì, a me è capitato una volta che ho detto, io parlo tedesco, e mi hanno fermato in Germania, anche lì su un ponte. Eh, ma io non parlo tedesco. E lui mi ha detto, nessun problema, venga con noi nella stazione di polizia dove c'è uno che traduce, e le spiego. Allora ho detto, beh, vabbè, ok, allora pago la multa. Ecco, tanto per capire, cioè, non è che... Si è reso subito. Loro non si agitano tanto, però capisci. Allora dicevo, poi da Basilea vai sempre dritto, passi per Mulheim, vai sempre dritto, sempre dritto, passi per, scusa, per Mannheim, vai sempre dritto, sempre dritto, Colonia, Düsseldorf, probabilmente a Colonia c'è una diviazione, io andando a Düsseldorf andavo dritto, ed è circa un'ora dall'aeroporto di Düsseldorf perché andrà in aereo. Quindi è lo stadio, il Westfalenstadion, che ha una caratteristica, questo meraviglioso muro giallonero. Tutti immagini, non ci sono le curve, non ci sono le curve, ma lo stadio sale così, e lì c'è un meraviglioso muro giallonero. Bellissimo. E sotto quel muro lì segnò Pippo Inzaghi, in una serata tremenda. Meno nove. Meno otto, meno dieci. Io per fortuna avevo la cabina, perché ho fatto la radiocronaca, e quando sono uscito alla fine della partita, ho visto i colleghi con i visi totalmente finiti, rossi, perché c'erano veramente meno, è una delle parete più fredde, e ho sofferto lì, ho sofferto sempre in Germania, contro l'erta di Berlino, oltre che abbiamo beccato, mi sembra 1-0, mi sembra ai tempi, ai tempi di, vado proprio a vederlo, ai tempi di Zaccheroni, abbiamo perso con l'erta di Berlino, vediamo se lo trovo, ma solo per curiosità, e anche lì ho patito un freddo drammatico. Secondo tempo drammatico, immagino. Eccolo qua. Il 20 ottobre non era neanche 99, sai cosa c'era? C'era un vento tremendo, che arrivava dal fiume, e lì la temperatura, quella che si dice in termini eleganti, percepita, era tremenda. Ma, tanto per dire in Germania, ma il 3 ottobre... Perché tu stavi seduto a fare la telecronaca, come gli altri colleghi... Ma mi ricordo che c'era il povero, purtroppo scomparso, collega da guanno giù, che a un certo... E' una roba allucinante. A un certo punto, sotto era molto più freddo che sopra, si alza, perché lui era di fianco alla panchina, perché faceva i collegamenti per spiegare, bordo campista. Si è alzato un attimo, è arrivato di corso quello dell'UEFA, dicendo che non doveva alzarsi. Si era alzato un po' per battere i piedi, perché era una cosa tremenda. E anche lì, e a un certo punto, prima della partita, scendono due elicotteri. Tutta la gente... Vicino al Westfale Stadium, c'è lo stadio di allenamento. E lì sono scesi due elicotteri. Il primo, Helmut Schröder, il cancelliere tedesco. Il secondo, Silvio Berlusconi. Ma Silvio Berlusconi aveva un giacchino di renna. Quindi lui non si è preoccupato... No, non si è preoccupato prima. Poi gli hanno portato un cappotto doppio, un bel cappottone, con un cappellino. Ricordo il cappello. Il cappellino con magari forse anche un po' le orecchie. Ed era... Lui era... Il presidente Berlusconi era il presidente del Consiglio. Ed era dopo l'ultima trasferta che aveva all'estero col Milan, era stata la sfortunata partita del 95, quando noi perdiamo la finale a Vienna, a Vienna contro i Laiax. Era l'ultima volta. Quindi erano passati più o meno sette anni, perché quella era del maggio 95, questa è del dicembre 2002, sette anni, e però ci fu la soddisfazione del presidente. Il Milan vinse 1-0. Infatti Carlo, se non erro, mi ricordo che Silvio Berlusconi non si era divertito tantissimo, in quella partita aveva detto di un Milan, sai lui quando vuole sempre che si giochi bene, si vinca con un risultato magari più largo. Però il Milan fece fatica in quella partita, a Milan, ricordiamo la formazione che è bella, Dida, Simic, Nesta, Maldini, Calazze. Beh. Beh, insomma. Zedorf, ti dico una cosa, giocò male. Zedorf, prese no, sei, qualche altro gioco, ma qui vedo dei sei. Fece l'assist però. Sì, dopo ne parliamo. Zedorf, Pirlo, Ambrosini, Rui Costa, poi Serginio, Shevchenko, Inzaghi. Sono entrati Laursen, a un minuto dalla fine, e Rivaldo, a pochi minuti dalla fine. E, nel finale, Ale Rosischi coglie un palo, per fortuna un tiro da lontano, incrocio dei pali, qui c'è scritto alla sinistra, non mi ricordavo se a destra o a sinistra. Il gol viene al 49esimo. Sì. Direi di sentirlo. Direi di sì, così andiamo a rivivere quell'emozione. Anche se Tassotti e Ancelotti hanno protestato per qualche non intervento del signor Frippi, non mi è dispiaciuto l'arbitraccio. Lancio lungo, mi piacciono gli arbitri che fanno correre, la partita in effetti è abbastanza corretta, attenzione, lancio lungo per Pepo, in tiro, gol di Pepo, gol di Pepo servito da Zedorf, gol di Pepo servito da Zedorf, gol di Pepo, gol, Pepo, Inzaghi, alta tensione, gol dei ragazzi, gol dei ragazzi, Zedorf lancio perfetto, e Pippo Inzaghi si è infilato, Pippo, Inzaghi, 1-0 per i ragazzi, al quarto minuto. Ecco, è stato un gol straordinario, perché Zedorf pittura, Willy Wonka, Willy Wonka, il re del cioccolato, Willy Wonka, Willy Wonka, è sempre il più acclamato, da dentro questo pallone, Pippo lo riesce a controllarlo, come per dire, pallone, stai qua, volo qua da me, volo qua da me, prende il pallone, e tira un tiro meraviglioso, dal basso in alto, e il caro portiere Lehmann, che era già stato portiere del Milan, esatto, e vinciamo 1-0. Ti leggo anche i commenti di Berlusconi. Cosa disse? Il successo è importante, ma non abbiamo dato lo spettacolo, al quale abbiamo abituato i tifosi. C'era da dire una cosa, lo stadio aveva le serpentine, però era un cemento, perché nonostante la serpentina, era cemento, non era campo di calcio. E' successo un po' per colpa del campo, non l'abbiamo ancora letto, e un po' per il reciproco sospetto tra le due squadre, che hanno avuto paura uno dell'altro. Si sono un po' studiate. Ancelotti, abbiamo difeso bene, senza mai dare la possibilità al Borussia di sfruttare il gioco in velocità. Inzaghi ha ripreso a fare quello che sa, dopo un leggero appallamento naturale, perché non aveva segnato nelle ultime giornate. Soprattutto in Europa è determinante, perché come dicono tutti, non è Inzaghi che ama il gol, è il gol che ama Inzaghi. E' un amore che viene prima dal gol. Esatto. E allora il Milan vince questa partita, una partita che noi ricordiamo, per la temperatura, si porta a sei punti davanti al Borussia, al Lokomotiv Mosca e al Real Madrid, poi vincerà le due partite contro il Lokomotiv Mosca, anche lì al freddo di Mosca segna Rivaldo, dopo aver vinto 1-0 in casa, e si qualifica, primo, e si qualifica esattamente primo, in una cavalcata che poi porterà il Milan a vincere la Champions League, dopo le drammatiche partite contro l'Ajax, contro l'Inter, e poi la vittoria. Senza ottave di Champions League quell'anno, proprio perché c'erano i due gironi. Esatto, si va subito ai quarti con l'Ajax, e ricordiamo, mi ha detto tante volte, il gol, Tomasson barra Inzaghi, Inzaghi barra Tomasson, poi quella palla che sfiora il palo di Callon, che poteva dare il 2-1 all'Inter, e nel finale, dopo l'1-1, il Milan è 0-0 l'andata, e poi la vittoria e i rigori. Però questa partita la ricordiamo, per il grande freddo, per un Milan che ha saputo, ti do un po' di pagelle, per esempio, Dida 6, Simic ha preso una 7 di media, Nesta 7 di media, Maldini 7 di media, Calazze tanti 7, Zedorf 6, Pirlo 6 e mezzo, Ambrosini fece una delle più belle partite, in maglia rossonera, prese 7 e mezzo, fu devastante, alla media del 7 e mezzo, quasi, Rui Costa 6, Serginio senza voto, Shevchenko 6, Inzaghi 7, probabilmente anche per il gol, e Rivaldo senza voce. Questo è il racconto, delle due partite contro il Borussia Dortmund. Carlo, per chiudere, volevo chiederti, ma hai avuto, in quel momento, l'impressione che il Milan, potesse poi andare a vincere la Champions League, quell'anno? Io più che in quel momento, l'avevo avuta contro il Deportivo La Corugna, quando il Milan vince, mi sembra 4 a 0, e segna 3 gol in sacchi. Ecco lì, Ancelotti era formidabile in una cosa, sapeva, gli davano tanti giocatori bravi, e riusciva sempre, non si spaventava, riusciva a gestirli, riusciva a fare il giusto turnover, lì Ancelotti, ecco lì contro La Corugna, e poi queste partite, l'ha il senso della positiva sorpresa, perché Milan veniva, dagli ultimi anni, non benissimo, perché dopo la vittoria del 99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, non arrivò in Champions, fu eliminato dal Galatasaray, ti ricordi? Cosa incredibile, la Galatasaray vinciamo 2 a 1, a pochi minuti dalla fine, 2 a 2, e quindi non siamo più in Champions League, ma siamo in Europa League, nel finale segna il Galatasaray, 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 e non siamo in Europa League, nei Champions League, siamo fuori da tutto, e lì già, la panchina del buon Zaccheroni, ha incominciato, eh sì, a traballare, esatto, e poi Carlo, questa abitudine, a stravincere i gironi subito, Sì, che ci manca un po', diciamolo, che un po' ci manca questa cosa, ragazzi, ma un po' ci manca, ma quello era un Milan, dei meravigliosi di Carloncelotti, cioè, era un Milan, che, perché Dio ogni tanto, lo punisce, per quando vuole troppo salire, ma indipendentemente dal discorso di Istanbul, anche quando perdiamo, diciamo, facile 4 a 1 con la Corugna, in una edizione che è arrivata, e che ha visto la finale, tra il, mi sembra il Porto, e il Monaco, cioè, squadre che Milan avrebbe detto, scusate, e lì invece abbiamo sbagliato quella partita, posso dire una cosa, era, il 2004, l'edizione dopo, 3-4, la Corugna non si è più ripreso, da quella partita lì, è scomparso nell'orbe terrale, la Corugna, è stato la Corugna, anche grazie a noi, si può dire, sì, era una buona squadra, l'avevamo già battuta, però quell'anno lì, non so, io, è stato un dramma, perché, quelle partite, dove non entri in campo, dici impossibile, 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 non hai mai dato l'impressione, di fare almeno un gol, fai un gol, vai meno ai supplementari, niente. Carlo, io ti ringrazio, e ti saluto, ti do appuntamento al prossimo, Cronache di Pelle Gatti, sempre fantasy, e vedremo che partita, ne stiamo studiando belle. Grazie a tutti.